ciao a tutti benvenuti nel mio nuovo video allora stamattina mi sono alzata molto presto erano già le 6 perché ho voluto già stirare i panni che veramente fa troppo caldo già 30 gradi in casa quindi già si prevede la giornata di fuoco quindi mi sono fatta proprio le cose con il calore proprio forte mattina presto anche perché comunque mattia è già sveglio sono le sette già infatti sta già a vedere i cartoni mati ha finito di fare colazione anch'io ho finito già di fare colazione stamattina ho fatto colazione con il latte di mandorla che sto evitando proprio il latte non posso bere proprio il latte normale quindi devo bere latte senza lattosio oppure latte di mandorla di soia insomma ho provato questo di mandorla della marca alpro è veramente buonissimo devo provare prego la cocco e niente stamattina c'è un bel da fare in cucina perché mi devo lavare le ante perché stanno le migliaia di manate di mattia e alessio insomma mi devo pulire queste ante qui poi vabbè le ante qua della cucina solo che mi tolgo un po di cose davanti non sono tante perché ho lavato era giusto un tegame che stava nel frigo vabbè le cose della colazione sportelli sempre aperti e niente quindi mi vado a lavare solamente le ante a e mi devo pulire sopra il mobile quindi devo prendere la scala e devo fare proprio pulire il condizionatore perché veramente in uno stato pietoso e preleante sono proprio nello stato ho intenzione di togliere il microonde qua sotto si crea sempre un po di confusione sotto sta penisola insomma c'è un bel da fare ma ho iniziato già a lavare il microonde infatti messo i pezzi fuori e niente anzi mi devo preparare pure l'acqua detox con la tisana fredda e mi do da fare poi vabbè do una bella lavata a terra con la tinieco do una lavata molto superficiale perché sul terrazzo i miei figli ci vanno a giocare con con l'acqua quindi fanno entra ed esci entra ed esci quindi la mia cucina metà pavimento tutta questa la qui dal balcone in poi si vedono sempre i piedini bagnati perché androno ed è anche se metto il tappeto ma il tappeto non lo vedono quindi vedono sempre il pavimento i miei figli una cosa che non so perché comunque tanto comunque con il caldo si asciuga anche presto a terra ma non riesco a mettere qua e va bene inizio con le pulizie poi vado giù nelle camere devo cambiare le lenzuola nella mia camera niente poi aspetto che si alza l'altro mio figlio dall'altra camera e vado per dire la a e il bagno giù devo pulire perché qui già l'ho messo il bici bici net e quindi già mi sono e poi devo iniziare a preparare il pranzo oggi non c'è proprio voglia manco di cucina va bene 3 2 1 diamoci da fare andiamo 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 e Grazie a tutti. 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 Allora ho pulito tutte le ante sopra i mobili non vi dico che ho trovato perché la verità è proprio da quando è iniziata l'estate che ho le finestre sempre aperte, la polvere sui mobili si è triplicata. Quindi se prima la facevo due volte al mese, poi mi tocca farla una volta a settimana perché veramente era in un stato schifoso. Qui non tanto devo essere sincera, però sul mobile quello della dispensa e sulla mini parete c'era veramente una... non voglio neanche dire. Da quando lavo le mie ante con questo qui, smac espress, sgrassatore con gandeggina, zero aloni, mi trovo veramente bene, stacca veramente l'unto e poi può anche per parecchie cose. Comunque mi trovo anche per parecchie cose. Comunque mi trovo da dio, è davvero zero aloni. Poi dipende comunque anche agli stracci che usate perché questo è proprio microfibra oppure uso lo scracchio, queste cose qua e gli aloni non si fanno. Quindi proviamo questo lavandino, proviamo tutto qua, lo trovate qui. Questa lavandino, proviamo tutto qua, lo trovate qui. Questa lavandino, proviamo tutto qua, lo trovate qui. Allora ho finito di pulire tutta la cucina, ma vabbè stamattina a giocare, ho messo i giochini qui sul tavolo. Ho finito le cialde del caffè, quindi devo vestirmi e devo andare di corsa al negozio. Sennò vado in crisi d'astinenza proprio senza il mio caffè. E mi sono pulita qui sulla caffè. Sennò vado in crisi d'astinenza proprio senza il mio caffè. Dopo il lampadario... Sennò mi è rimasto il lampadario da pulire che me ne sono proprio dimenticata. Vabbè, ma me lo faccio perché sennò non mi va più di prendere lo straccio e quant'altro. No, ma devo fare, ma ti sposti, ma mi sta pure a giocare a lui, ma tu non mi ingozza a riprendere di nuovo le cose. Vuoi l'acqua? Vuoi l'acqua? Sì. Sì. Un attimo, chiedo l'acqua al bambino. E, come dicevo, e ora mi vado a pulire l'elica di qua e devo andare a finire di pulire il bagno. E poi mi fermo. Ah, e poi devo fare la mia camera da letto perché non mi fa male, mi brucia l'occhio. Devo cambiare le lenzuola e vado però solo a spolverarla così, in maniera molto veloce. E passo pure la tineco in maniera molto veloce, giusto per tenere un po' il pavimento pulito. Anche se mi devo dare una bella sgrassata, come dico io. Sì, la tineco è ottima, anche la bistel. Però... Non lo so. No, mamma, non iniziamo col balcone fuori. Ora ho finito, mamma, della vattera. Dieci minuti pulito, mamma. Dieci? Dieci? Sì, dieci. È andato fuori. Va bene. No, no. No. Vedo, vedo. Vedo, vedo. Vedo, vedo. Vedo, vedo. Vieni qua. Pianta. Eh, innaffia quella la pianta. 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 Faccio innaffia la piandina che sta lì all'ombra. Il prezzemolo in buca parole. Va bene. Allora, io ma... Mi pulisco stelica perché sennò poi non mi va più. Eh, vado a togliere la scala. Eh, niente. Poi mi dedico al pranzo. Eh, oggi? È giovedì. No, oggi è venerdì. Oh, oh, oh. È venerdì. Eh... Oggi pasta fredda. Oppure pasta e patate. Ma vediamo cosa vuole mio marito. Perché devo cambiare anche il menù. Che l'ho tolto. Volevo mettere più i pasti estivi. Queste cose qua. Va bene. Ci aggiorniamo dopo. Allora, chiudo qua il video perché è fatto veramente lunghino. Eh, tanto avete visto tra le pulizie della cucina. C'è anche insomma. Eh, poi vi ammiate. Ma poi il lavandino. E mi sono dimenticata di che mi è uscito veramente lucidissima. Eh, dai. Eh, mi ha tolto anche qualche macchiolina di calcare. Quindi, perfetto. Lo adoro proprio questo prodotto. Tra virgolette. Con questo. Sì, sì. Non si scatenano tutte e due. Eh, niente. Allora, chiudo qui il video. Eh, mi trovate su Instagram come lucrilovoma. Sono su TikTok anche con lo stesso nome lucrilovoma. Mi raccomando. Attivate la campanella per non perdervi altri video. Spero che vi ho tenuto un po' di compagnia. E niente. Allora, io vi do un grande bacio. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.